questa persona. Salutiamo anche Renata e salutiamo anche Roxy, Roxy Rose. Quindi concentrati, pensa a una persona e vediamo cosa sta per fare con te questa persona. Quello che ti suggerisco è quindi di concentrarti e poi fare la scelta. O scegli o il Buddha, prima stesa, il testimone, o la piramide, seconda stesa, o la stele, terza stesa. Salutiamo anche Maria Petrone. Quindi cosa sta decidendo di fare con te? O il Buddha, prima stesa, o la piramide, seconda stesa, o la stele, terza stesa. Bene, e partiamo quindi con il Buddha, con la prima stesa che è la stesa del Buddha. Cosa sta decidendo di fare con te? Cosa sta decidendo di fare con te? Vediamo i tarocchi interattivi. Allora, userò diverse carte, tra cui anche i tarocchi di Lenormand, le sibille, tra virgolette, di Lenormand, che possono essere utilizzate, diciamo, che possono essere utilizzate perché hanno un significato interessante, interessante anche le sibille di Lenormand. Ma partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Cosa sta decidendo di fare con te? Quindi partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Salutiamo anche LM. Salutiamo anche Green Apple. E adesso che vedo Green Apple, vi ricordo che questa sera non potete mancare alle ore 21 sul canale Massimo Taramasco perché ci sarà English Lesson di Green Apple. Cioè Green Apple vi insegnerà l'inglese, sarà la prima delle 748 lezioni previste dal corso che faremo. Sono lezioni base queste, ma tanto ce n'è 748, ma non potete perdere la prima che è fondamentale. Questa sera alle ore 21 sul canale Massimo Taramasco avremo Green Apple. Allora mescoliamo le carte. Tra l'altro vi ricordo che chi non l'avesse ancora vista vada a vedersi l'intervista di ieri di Vincenzo Maria Pasolini che ci ha parlato del suo libro. E allora iniziamo a mescolare le carte, iniziamo a mescolare le carte e vediamo cosa sta decidendo di fare con te. Cosa sta decidendo di fare con te. Quindi tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Chi ha scelto queste carte ovviamente deve farsene una ragione perché è una persona che probabilmente ha scelto di chiudere la relazione con te o comunque non ce n'ha più per le palle diciamo di avere una relazione con te. È una persona che ha un po' la testa tra le nuvole, è una persona che non ha voglia, ma tu avrai comunque la forza di affrontare la situazione. Però diciamo che questa situazione è più vuotata verso la rottura che verso il proseguimento. Però vediamo perché di cercare di capire ancora qualcosa di più utilizzando i tarocchi. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia? Vediamo un po' che ci dicono. Che ci dicono i tarocchi di Marsiglia? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Allora, diciamo questo, che comunque una persona che è molto legata agli aspetti pragmatici della vita ha ancora dei sentimenti per te, però probabilmente da un punto di vista logico-razionale non gli andavi bene. Quindi quando le motivazioni sono logico-razionali perché sono venute tutte simboli di terra, dei denari, è difficile che una relazione possa ripristinarsi, possa andare avanti. Ovviamente le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, non nel momento in cui vengono fatte, il che significa che nel momento in cui viene vista la stesa i tarocchi utilizzano la sincronicità come sistema. Quindi cosa vuol dire che c'è un motivo logico per cui questa persona si allontana? Il motivo logico è dato da motivazioni legate, potrebbe essere l'età, ad esempio, potresti essere considerato o considerata troppo giovane o troppo vecchia, quindi l'età non è che te la puoi cambiare, potrebbe essere dato dalla situazione economica, potresti essere considerata troppo ricca o troppo povera, perché vale nel più o nel meno, o dalla situazione familiare, potresti avere dei figli, non avere dei figli, insomma, voler dei figli, non voler dei figli, legate tutta alla situazione familiare, oppure a problemi in generale che tu hai e che questa persona non vuole sobbarcarsi, comunque, questo è un altro punto. Bene, vediamo di utilizzare anche le carte di Lenormand, le sibille, le sibille di Lenormand che sono interessanti, vediamo che ci dicono ancora, per approfondire, le sibille di Lenormand. Allora, tagliamo e scegliamo che qua le prime tre carte delle sibille di Lenormand. Allora, abbiamo 10, 24, 33. Allora, partiamo con la prima carta, la carta numero 10 che, come vedete, rappresenta la falce, rappresenta la falce. La falce, anche qua, è molto simile alla torre, diciamo, perché rappresenta comunque un cambiamento repentino, rappresenta la fine di un ciclo, rappresenta una rottura, una, diciamo, comunque avere a che fare con una persona calcolatrice, una persona fredda, quindi, e i tempi anche sono abbastanza brevi, quindi è probabile che questa persona voglia comunque chiudere la relazione abbastanza, abbastanza, abbastanza. Dice Green Apple, non vi vado bene perché sono troppo giovane e ricca, questo può succedere, può succedere. Abbiamo invece, però potrebbe anche, vabbè, non è il tuo caso, però in generale potrebbe essere, anche una donna troppo giovane e ricca potrebbe non andare bene, se una persona, ad esempio, non vuole avere problematiche. Sembra strano, no? Ma alle volte è possibile che anche una persona troppo giovane e ricca possa non essere presa in considerazione proprio perché è troppo giovane e ricca, sembra strano, ma le motivazioni logiche sono soggettive, no? Sembra strano questo, che è più facile ovviamente che una vecchia e povera è piena di problemi, non va bene, ovviamente, ovviamente è più facile che una vecchia e povera è piena di problemi, però paradossalmente è anche una troppo giovane e troppo ricca. E poi, di solito sono i problemi, comunque, quelli logico e razionali, questioni familiari, ad esempio i figli potrebbero essere un problema, ad esempio una persona che ha figli e una che non ha figli, potrebbe uno non accettare di condividere, tra virgolette, soprattutto, diciamo, le donne che vogliono trovare un padre per i loro figli, questa è la cosa più abberrante, no? Cioè, comunque, detto questo, ognuno fa quello che gli pare. Allora, comunque, la falce rappresenta il cambiamento. Intanto salutiamo anche Chris e Betty Kotic e poi andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo il 24, il 24, che è interessante anche questa carta, che rappresenta, come vedete, il cuore. Il cuore rappresenta comunque un colpo di fulmine, quindi probabilmente quando chiuderai questa storia troverai un'altra persona, quindi ti conviene chiudere questa relazione perché troverai un'altra persona e troverai un incontro destinato a durare, però devi chiudere, anzi il cuore rappresenta anche una persona sensibile, quindi è interessante perché la chiusura di una corrisponde all'apertura, quindi non dobbiamo mai temere. E poi abbiamo la 33, che rappresenta la chiave. La chiave, anche qua, è una nuova apertura, quindi viene proprio fuori, no? Che una volta che è chiuso questa storia ne ripartirà un'altra. La chiave rappresenta l'apertura, una nuova partenza, diciamo l'apertura di una nuova porta fondamentalmente. Quindi questo è un po' il risponso di Lenormand. E adesso veniamo al, veniamo al, veniamo al, diciamo, ai suggerimenti con i tarocchi zen. Veniamo ai suggerimenti con i tarocchi zen di Osho. Vediamo cosa ci suggeriscono i tarocchi zen di Osho. Tagliamo le carte e scegliamo le prime tre. E quindi? Allora, il suggerimento è cerca di avere un comportamento maturo, divertiti e non farti impanicare, non impanicarti. Questi sono i suggerimenti da parte dei tarocchi zen di Osho. Passiamo alla seconda stesa. Passiamo alla seconda stesa, che è quella della piramide. E vediamo cosa sta decidendo di fare con te. Questa persona che ti interessa, cosa sta decidendo di fare con te. Passiamo alla stesa della piramide. E partiamo ovviamente con gli arcani maggiori dei tarocchi. Sì, potrebbe essere anche una donna giovane ricca che viene lasciata. Vabbè, ovviamente non è il caso di Green Apple, però almeno per quanto riguarda la giovinezza. Poi Green Apple è ricchissima, perché non so se sapete, abita a Buckingham Palace. È direttamente la proprietaria del castello lì di Buckingham Palace. Però è anzianissima, ha 95 anni. Però, insomma, nella sua reggia di Buckingham Palace, che adesso sta subaffittando a Re Carlo, la sta subaffittando a Re Carlo per dargli un po' di spazio. Però sappiamo che la nostra Green Apple è proprietaria di Buckingham Palace, non soltanto, ovviamente. Adesso che subaffitta, diciamo, subaffitta in nero a Re Carlo, che sta subaffittando in nero a Re Carlo, per lasciare un po' spazio. Insomma, il proprietario della reggia di Buckingham Palace, che sta subaffittando però a Re Carlo, gli lascia un po' di spazio a questo povero disgraziato di Re Carlo, che, come sapete, Re Carlo non ha tutti questi soldi Re Carlo e in questo periodo sta vivendo un po' di crisi finanziaria. Quindi, giustamente, Green Apple gli ha anche ridotto un po' l'affitto, giustamente, perché non è che può, insomma, rivalersi su questo poveraccio di Re Carlo, che, come sappiamo, vive in condizioni disagiate. Lui e Camilla non è che hanno solo quelle 752 stanze, cioè, come volete, hanno solo 752 stanze e sono addirittura in due, quindi non è che circa 300 stanze a testa, non è che hanno tutto questo spazio, insomma, e quindi Green Apple, giustamente, gli ha dato anche un po' di spazio. Bene, tagliamo, tagliamo, e scegliamo, scegliamo le prime tre carte. Vediamo degli arcani. Oh, beh, qua, insomma, le cose direi che vanno un po' decisamente meglio, diciamo, da questo punto di vista, perché abbiamo, abbiamo il giudizio, il giudizio positivo, quindi è una persona che comunque, che comunque, diciamo, ha espresso un giudizio positivo, e abbiamo qua l'imperatore, l'imperatore che rappresenta anche la stabilità, e anche le stelle, e anche le stelle, quindi un obiettivo. È una persona che ha un obiettivo nei tuoi confronti, ha una persona che, diciamo, ha un qualcosa, ha un qualcosa da fare, e quindi questo è. Sì, sì, infatti Buckingham Palace, in effetti, poi sarebbe anche da restaurare. Adesso ci sono tre catramisti albanesi che magari in nero faranno qualche lavoretto a tempo perso per ristrutturare, dare una mano di bianco, una mano di bianco a Buckingham Palace. Pensano in due weekend, in due weekend di finire, perché non è che ci vuole modano due mani di bianco, diciamo, di ristrutturazione, una scelta di catramisti albanesi che in nero come doppio lavoro, nel tempo perso, vanno lì a fare due lavoretti, anche a Buckingham Palace. E quindi abbiamo anche le stelle, abbiamo anche le stelle, e quindi rappresenta un progetto nei tuoi confronti. Quindi è una cosa interessante. Quindi c'è una persona che vuole fare qualcosa nei tuoi confronti. Vediamo un attimino, salutiamo anche Maria Grazia. Ricordo intanto a tutti di iscrivervi al canale, mettere un like, mettere un like che non costa niente e far girare il video. E poi ricordo che chi volesse fare una donazione, anche un caffè ben accetto, può cliccare sul tastino col dollarino e fare una donazione. Chi si vuole abbonare al canale, basta che va nella home page e può cliccare sul tastino abbonati. Ricordo inoltre che, diciamo, questa sera, mi raccomando, non perdetevi l'immancabile lezione d'inglese della nostra Green Apple. Una vecchia signora che vive a Londra, che conosce bene l'inglese, e farà una lezione per noi, questa sera d'inglese, sulle cose phrasal verbs, cose interessanti, anche per voi, diciamo, che siete ignoranti. Allora, tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte e vediamo che ci dicono i tarocchi. Beh, qua, diciamo che, allora, hai una persona che ha i sentimenti, ha sentimenti nei tuoi confronti, quindi una persona che è ben predisposta nei tuoi confronti, e tra l'altro è anche un re di denari, quindi ha una sua stabilità, una persona molto stabile, ha qualche problemuccio, diciamo, legato un po' alla trasgressione, però direi che è una relazione che può funzionare, può funzionare, può funzionare bene, può funzionare bene. Vediamo, vediamo poi, diciamo, anche qua, le carte di Lenormand, le carte di Lenormand, anzi, le Sibille, abbiamo introdotto quindi le Sibille, vediamo cosa ci dicono le Sibille di Lenormand, che sono interessanti anche le Sibille di Lenormand. Allora, tagliamo e scegliamo, anche qua, le prime tre carte delle Sibille di Lenormand. Bene, bene, abbiamo 8, 15 e 35, quindi, 8, 15 e 35, beh, 8 è interessante, insomma, prima di dirvi l'8, volevo dirvi che l'8 rappresenta la bara, rappresenta la bara, però la bara è un po' legata alla morte, no? Rappresenta sicuramente una fine, una trasformazione radicale, una rottura, quindi tenete presente che non è detto che la rottura potrebbe essere anche con una situazione, perché le carte davano che quindi una persona che ha un progetto, però dovete togliervi dalla testa qualcos'altro, quindi c'è qualcos'altro che dovete togliervi dalla testa, potrebbe essere anche la paura del tradimento, la paura in generale, no? quindi la bara rappresenta che dovete fare il funerale, potrebbe essere ancora che avete in testa un ex, qualche cosa, quindi cercate di, diciamo, mettere fine a questa cosa, altrimenti le cose non funzioneranno, quindi salutiamo anche Giovanna e salutiamo, l'8 rappresenta l'infinito, sì, rappresenta l'infinito, ma in questo caso nella lettura di Lenormann quello che conta è la figura soprattutto, quindi la bara ha questo significato, ma poi abbiamo anche il 15, il 15 rappresenta l'orso che invece rappresenta una situazione di stabilità, l'orso rappresenta la stabilità, la solidità, il coraggio, rappresenta anche l'energia, quindi l'orso rappresenta il consolidamento delle relazioni, ecco, quindi nel momento in cui vi togliete dalla testa quella persona, diciamo, quella situazione negativa, potrete consolidare questa relazione di cui ci parlavano le altre carte, perché l'orso rappresenta proprio il consolidamento, diciamo, e l'inizio di una relazione con un uomo che potrebbe essere un po' schivo, un po' orso, un po' ma anche tenero, comunque protettivo, una figura un po' paterna, e poi abbiamo il 35 che è l'ancora, l'ancora dà ancora forza all'orso, perché l'ancora ovviamente, come dice il simbolo, rappresenta la sicurezza, non siamo ancorati, rappresenta la stabilità, rappresenta unioni, degani, quindi rappresenta un equilibrio, ma rappresenta da un punto di vista delle situazioni anche un uomo, una persona comunque combattiva, equilibrata, carismatica, insomma, tutto questo quindi è abbastanza positivo, e questo è un punto importante, quindi mi raccomando, adesso vediamo due consigli con i tarocchi zen, mi raccomando questa sera alle 21 non perdetevi la nostra Green Apple che direttamente da Buckingham Palace ci farà una lezione d'inglese, perché come sapete Green Apple è la proprietaria di Buckingham Palace che adesso ha subaffittato diciamo in nero a Re Carlo e però questa sera proprio per questa lezione trasmetterà in diretta da Buckingham Palace, quindi se volete vedere un attimino le stanze di Buckingham Palace questa sera alle 21 vi collegate sul canale abbiamo la nostra Green Apple direttamente da Buckingham Palace tra l'altro ci sarà anche ci sarà anche il nostro Re Carlo che farà da maggiordomo perché Green Apple siccome gli ha fatto lo sconto sull'affitto diciamo della di Buckingham Palace che è la vera proprietaria Green Apple di Buckingham Palace ha fatto lo sconto sull'affitto e quindi Re Carlo si è offerto di fare da maggiordomo quindi questa sera fornirà a Green Apple il tè i pasticcini perché come dire deve pure sbarcare il lunario oramai sappiamo che Re Carlo è in grossi problematiche finanziarie quindi farà questa cosa ora vediamo quindi due suggerimenti con le carte Zen di Osho con le carte Zen di Osho vediamo che ci dicono le carte Zen di Osho allora quali sono i suggerimenti per te allora bene utilizza la tua creatività porta avanti diciamo le cose in silenzio non fare cacciare e cerca anche di consolidare proprio un'amicizia con questa persona bene adesso passiamo alla terza stesa perché ha scelto la stele perché ha scelto la stele quindi pensa questa persona cosa sta decidendo di fare con te questa persona cosa sta decidendo di fare con te questa persona ti ricordo che sul canale Massimo Terramasco ci sarà la lezione al 18.45 salutiamo anche Stella Marina chi volesse partecipare alla mia lezione 18.45 sul canale Massimo Terramasco deve abbonarsi all'abbonamento base parleremo proprio di come comunicare per la comunicazione se vogliamo un po' ipnotica per far passare dei messaggi alla mente delle persone quindi ore 18.45 sul canale Massimo Terramasco la lezione la lezione bene vediamo quindi partiamo con le carte partiamo con le carte diciamo con gli arcani maggiore dei tarocchi con gli arcani maggiore dei tarocchi vediamo vediamo gli arcani maggiore dei tarocchi vediamo gli arcani maggiore dei tarocchi salutiamo anche Stella Marina gli arcani maggiori dei tarocchi buongiorno stella che piacere vederti ogni tanto viene anche la nostra stella allora tagliamo e scegliamo le prime tre carte le prime tre carte vediamo che ci dicono beh direi che qui stiamo andando decisamente bene direi che meglio di così ragazzi chi ha scelto la stella non si può perché abbiamo la forza il mondo è la ruota della fortuna tutte dritte quindi rappresenta praticamente un progetto che si andrà a consolidare avrai la forza per portare a termine avrai anche l'universo dalla tua quindi direi che le cose stanno andando veramente bene perché ha fatto la scelta della stella quindi questa persona vuole proprio creare un progetto e ripeto deve essere un progetto consolidato con te cioè ecco quando parlo di progetti non è detto che debba essere un matrimonio per forza perché un matrimonio potrebbe piacere a qualcuno e non piacere a qualcun altro oppure una convivenza potrebbe piacere a qualcuno e non piacere a qualcun altro quindi questo è un punto fondamentale martedì senza youtube tutto il giorno per aggiornamenti dell'app store ma che cazzo dici? ma che stai dicendo? ma non dire fesserie non dire non sparare puttanate assurde Chris l'app store che cazzo c'entra? non potrai riaggiornare il canale no Befana? ma no ma stai dicendo delle cose senza senso figurati se youtube sta tutto il giorno per aggiornamenti della tua app store di merda non deve non deve avere youtube ma il tuo telefono ma perché c'è un telefono di merda cambia telefono con un'app store diversa ma adesso qui youtube che fa uscire non so quanti video al giorno sulla tua app di merda butta via il suo cellulare del cazzo e trodene in alto no? ma è un cellulare di merda buttalo nel cesso allora cellulare che l'hai comprato dai cinesi l'hai comprato quel cellulare allora vediamo vediamo ma perché è un cellulare non diffondere queste notizie che poi le persone pensano che veramente non funzioni quando sarai solo tu che hai sto cellulare del cazzo comprato dai cinesi che non vale niente sei il topo di gamma non dire puttanate sarai l'unica che non riesce a vedere il core non diffondere queste notizie false e tendenziose figurati se youtube che fa 200 milioni di cose di video al giorno fa 200 milioni di video al giorno per raggiornare la tua app non trasmette tutto il giorno martedì ma noi diciamo fesserie allora allora abbiamo la forza quindi il mondo e abbiamo e abbiamo anche la ruota della fortuna quindi siete tutti siete tutti diciamo avete ok dicevo il progetto deve coincidere un progetto con l'altro quindi quindi questo ma butta quel cellulare nel cesso e compratene un altro no il tuo problema è che è un cellulare di merda buttalo nel cesso e compratene un altro allora dicevo significa che avete obiettivi comuni forse anche il parcheggio del cimitero entrambi volete andare al parcheggio del cimitero poi passiamo passiamo comunque ad avere sì ma non si possono diffondere che magari qualcuno ci crede pure passiamo al diciamo passiamo al passiamo sì 700 euro albanesi costa che corrisponde a 0,7 euro europei passiamo al diciamo agli arcani maggiore minore dei tarocchi ma poi reinstallare un'app ci va 5 minuti nei cellulari normali per reinstallare un'app ci va 5 minuti che è tutto il giorno ci va 5 minuti per reinstallare un'app non ci va niente 5 minuti ci va per reinstallare un'app allora anche qua confermano confermano la pazienza ci vuole un po' di pazienza per raggiungere il tuo obiettivo avrai la trasgressione avrai la regione di denaro quindi una relazione che va alla grande quindi che ha scelto la stele proprio le cose stanno andando veramente bene veramente alla grande e vediamo che cosa ci dicono le carte le sibille cosa ci dicono le sibille di Lenormand cosa ci dicono le sibille di Lenormand cosa ci dicono le sibille di Lenormand tagliamo e scegliamo le prime tre carte e vediamo abbiamo oh interessante abbiamo l'uno il 22 e il 31 bene bene quindi le sibille di Lenormand le sibille di Lenormand il numero 1 il numero 1 è interessante perché rappresenta il cavaliere il cavaliere e ovviamente il cavallo rappresenta movimento viaggio potrebbe essere una persona che vive lontano da te perché il cavaliere rappresenta il movimento un tuo spostamento un viaggio visite un luogo lontano un cambiamento positivo ma rappresenta anche determinazione e coraggio rappresenta anche comunque una persona intelligente dinamica indipendente quindi molto positivo molto positivo poi abbiamo il il numero 22 il numero 22 che rappresenta la stradina il sentiero vedete il numero 22 che rappresenta il sentiero 700 rubli esatto sarà 700 rubli 700 rubli che sono quasi neanche un dollaro perché un dollaro mi sembra adesso non so se ti danno 10.000 o 1.000 rubli con un dollaro non mi ricordo quindi il telefono di Chris vale 700 rubli che credo sarà 07 adesso non mi ricordo se ho 10.000 non so se un dollaro o un euro sono 10.000 rubli forse ho 10.000 o 1.000 non mi ricordo esattamente quindi comunque avere un telefono che vale 07 euro o 007 euro quindi è ovvio che non funziona poi andiamo avanti e vediamo quindi abbiamo il numero 22 il numero 22 rappresenta il sentiero il sentiero e la scelta è devi fare una scelta quindi vedete che c'è un bivio un crocicchio tra l'altro questa cosa dei crocicchi degli incroci è molto utilizzata anche in magia però il sentiero rappresenta la scelta insomma la scelta e poi abbiamo il 31 che invece rappresenta il sole il sole ovviamente che è uscito anche più o meno mi sembra dall'altra parte il mondo forse comunque il sole rappresenta la vitalità l'ottimismo l'allegria una grande fortuna anche i guadagni in arrivo quindi benessere quindi veramente tra l'altro il sole potrebbe anche rappresentare siccome il simbolo dell'energia maschile potrebbe rappresentare potrebbe rappresentare diciamo che cosa potrebbe rappresentare un un figlio maschio un figlio maschio non per voi ovviamente che siete anziati potrebbe essere un nipote per voi che siete diventerete nonne perché ovviamente per voi non può rappresentare un figlio vista l'età però potrebbe rappresentare l'arrivo di un nipote maschio un nipote maschio quindi presto potrete diventare nonne magari e chi spera di diventare nonna di voi sarà un maschio sarà un un maschio e questo e questo è un qualcosa di di importante insomma un maschio un maschio bene adesso vediamo ancora i suggerimenti vediamo ancora i suggerimenti da parte da parte diciamo dei i suggerimenti da parte dei tarocchi diciamo dei tarocchi zen quali sono i suggerimenti per te da parte dei tarocchi zen di Osho suggerimenti per te da parte dei tarocchi zen di Osho allora, tagliamo le carte scegliamo le prime tre carte vediamo un po' e il suggerimento è devi lottare se tieni molto a qualcosa devi lottare devi vivere la tua armonia interiore e non trascurare l'avventura non trascurare un viaggio torna al tema del viaggio e dell'avventura ecco, questo è quello bene, detto questo iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video